Via domenica 15 settembre la stagione venatoria fissata a partire da un'ora prima dell'alba. Sono 10.000 cacciatori bergamaschi pronti ad impugnare le doppiette. Intanto la regione Lombardia con decreto dai 6 settembre ha introdotto alcune modifiche al calendario regionale per l'intera stagione 2013-2014 che comportano una riduzione a prelievo di alcune specie e le polemiche non tardano a farsi sentire. Quando io ero piccolino i cacciatori nella provincia erano 44.000, adesso sono 12.000. E diamoci conto che anche per quanto riguarda l'indotto ogni cacciatore che si ritira determina una diminuzione di tutto il lavoro che ci sta attorno, dalle armi, le cartucce, i vestiti e tutto il resto. Normalmente ogni 80 cacciatori che si ritirano si perde un posto di lavoro. Ebbene, dal 1968, quando erano quelli oltre 40.000, da adesso abbiamo perso oltre 280 posti di lavoro in provincia di Bergamo. A fronte di che? Di niente. Di niente perché uno pensa, oddio, questa specie qui la proteggiamo e quindi la vietiamo alla caccia, quindi questa aumenterà in maniera smisurata. Non è mica vero, perché se tutte le specie protette aumentassero in maniera spropositata, questo vorrebbe dire una conferma di questa tesi, ma non è così. Il prelievo non potrà essere superiore al 70% dei capi abbattuti nel 2011. Eventuali ulteriori riduzioni potranno essere stabilite dalle province, sulla base dei risultati dei censimenti tardoestivi 2013. Le migrazioni in Italia sono una cosa che c'è sempre stata e sempre ci sarà. E quando vengono a dire che non ci sono uccelletti, basta salire in montagna all'autunno per vedere cosa passa. Quindi le migrazioni per noi che l'autunno lo passiamo in montagna, possiamo anche testimoniare che negli altri, una quantità, un anno tanti, un anno pochi, però il totale degli uccelli che migrano, pressoché delle varie specie, pressoché è totale. E si calcola che sono alcuni miliardi. Non sono le poche decine che i cacciatori abbattono, che vanno a inficiare quelli che sono i flussi migratori. Prendiamoci conto che non possiamo essere emotivamente interessati all'uccellino perché canta e è la trota che portiamo fuori dall'acqua, che more a sfitti, che non ce ne frega niente. L'interessato è che se andano azzare, diciamo, ti dio lo spray, però le farfalline sono belle. E forse un po' di obiettività nel nostro rapporto con la natura andrebbe fatto.